L'auto del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro Gerardo Mancuso è stata incendiata nella serata di ieri alla mezzia terme. La vettura era parcheggiata per strada sotto l'abitazione di Mancuso. Le indagini sull'episodio sono condotte dal personale del commissariato della polizia che ha trovato il tappo e i resti bruciati di una tanica. Sullo possibile movente gli investigatori non escludono alcune ipotesi. Siglata è nell'assessorato regionale alla cultura le prime convenzioni per i parchi culturali in Calabria tra le regioni ed alcuni comuni calabresi. Un investimento di circa 6 milioni di euro per sostenere complessivamente 12 parchi culturali, la valorizzazione delle aree archeologiche della Magna Grecia, di Sibari, Locri e Antica Temesa, gli itinerari letterari di Felice Mastroianni a Platania e Francesco Perri a Careri. La cultura astronomica rappresentata da Aloysius Lilius nelle crotonese è quella degli scacchi a Cutro ricordando Leonardo di Bona, le risorse subacquee di Diamante, quelle ambientali di San Roberto, quelle geologiche delle miniere ad Agnana, quelle turistiche del Vibonese a Ionadi, lo studio scientifico della natura promosso dalla CNR a Taverna. I parchi culturali sono inseriti nell'ambito dei progetti integrati di sviluppo locale promossi dall'assessorato alla programmazione guidato da Giacomo Mancini. Con questi ulteriori investimenti ha dichiarato l'assessore regionale alla cultura Caligiuri si pongono premesse per valorizzare le aree archeologiche, figure culturali come l'astronomo Aloysius Lilius, lo scacchista Leonardo di Bona, gli scrittori Felice Mastroianni e Francesco Perri e poi le notevoli risorse ambientali, marine e geologiche della Calabria. Un investimento significativo di 6 milioni di euro che ha individuato 12 interventi all'interno di tutto il territorio regionale in maniera vasta ed ampia. Si parte dai parchi archeologici di Sibari, Locri e l'antica Temesa e poi ancora per ricordare delle figure letterarie di grande valore come Felice Mastroianni a Platania o Francesco Perri di Careri. Poi ancora delle personalità di grande spessore intellettuale come Aloysius Lilius, grazie ai cui studi si deve il calendario perfetto promulgato da Gregorio XIII che scandisce il tempo in quasi tutti i paesi del mondo anche oggi. Poi ancora anche i parchi che riguardano lo studio degli scacchi, gli studi che riguardano le ricerche ambientali, quelle marine, anche le risorse geologiche come le miniere di Lignite ad Agnana. E ancora anche le grandi risorse marine che ci sono a Diamante e tanti altri beni che sono diffusi in tutta la Calabria. Ovviamente abbiamo individuato solo alcuni progetti pilota che però riguardano tutta la nostra regione, compreso lo sviluppo delle località turistiche, delle risorse ambientali in provincia di Vipo Valencia, con un progetto presentato dal comune di Ionadi. Quindi tutta la Calabria è interessata in questo grande progetto che cerca di creare economia, di promuovere la democrazia e contrastare anche la criminalità organizzata attraverso investimenti mirati sulla cultura. La Commissione regionale speciale di vigilanza ha eletto all'unanimità il consigliere Aurelio Chizzoniti nella carica di presidente. L'organismo era stato convocato dal vicepresidente Carlo Guccione del PD. La minoranza ha detto Guccione nel corso dei lavori, in questi casi si astiene. Nello specifico, però, contrariamente alla Prassi, come rappresentante del PD ho deciso di esprimere il mio voto favorevole al consigliere Aurelio Chizzoniti, dando atto del suo lavoro e del percorso comune fatto in insieme. Anche i consiglieri Pacenza, PDL, parente Scopilliti presidente, Vilasi, PDL e Tripodi Misto hanno espresso la loro condivisione per la scelta di eleggere Aurelio Chizzoniti alla presidenza della Commissione di Vigilanza. Telefonate continue ed ossessive ed anche minaccia all'ex moglie. Per questo motivo, personale del commissariato della Polizia di Lamezia Terme ha notificato un'ordinanza che prescriva ad un cinquantenne lametino il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai suoi familiari, essendo stato ritenuto responsabili di stalking. Nell'agosto scorso, in più occasioni, la volante del commissariato era intervenuta su richiesta di una donna separata da alcuni anni dal marito per allontanare l'uomo dalla nuova abitazione della ex moglie. Altro caso ad Altomonte, dove un uomo, Francesco Gallicchio, di 44 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di stalking nei confronti della ex moglie. Gallicchio, separato ormai da tempo dalla moglie, ha incendiato l'automobile della donna che, spaventata per quanto era accaduto, ha deciso di denunciare l'accaduto raccontando di aver subito anche altre vessazioni da parte dell'ex marito. Il sostituto procuratore generale di Catanzaro, Eugenio Facciolla, ha chiesto la conferma delle condanne di primo grado nei confronti dei responsabili dell'omicidio di Nicola Duro, il giovane ucciso a Catanzaro il 17 giugno del 2010. La sentenza di primo grado fu emessa il 19 novembre del 2011. Nel processo con rito abbreviato furono condannati a 30 anni di reclusione Donato Passalacqua, la moglie Ornella Bevilacqua ed il figlio Antonio Passalacqua. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS